Presidente Monti, oggi la Commissione Sanità ha iniziato anche a discutere un provvedimento per valorizzare il corpo degli alpini, perché è stato deciso questo? È un provvedimento importante, un progetto di legge che valorizza la figura degli alpini in Lombardia, l'abbiamo vissuta con il Covid, l'aiuto grandissimo che hanno dato in tutti i territori, non solo in Bergamasca con l'allestimento del famoso ospedale che hanno messo in piedi in pochissimo tempo. L'organizzazione degli alpini è preziosa, su questo abbiamo voluto oggi esprimere un giudizio favorevole nel poter associare la figura dell'alpino con i nostri giovani nel percorso della leva civica lombarda, un percorso di formazione di crescita che tutti gli anni accoglie migliaia di giovani lombardi che iniziano a lavorare, a darsi da fare, a dare una mano alle nostre comunità e in questo modo lo potranno fare con l'aiuto e sossegno degli alpini. L'iter è iniziato oggi e adesso passerà poi anche per l'affare istituzionale? Passerà alla Commissione Seconda, approvato anche lì, sarà la volta dell'Aula e speriamo prima dell'estate di aver approvato un progetto di legge che dà il giusto riconoscimento agli alpini qui in Lombardia.